Ciao, sono Adri, benvenuto a casa mia. Oggi ci dedicheremo ai vini rossi. Nell'esame visivo valutiamo anche la consistenza del vino. Proviamo a girare il vino nel bicchiere, lo fermiamo e valutiamo le lacrime e gli archetti. Questo che ho in mano è un vino giovane e quindi è stato piuttosto fluido nel girare nel bicchiere. Le lacrime scendono piuttosto velocemente e gli archetti sono piuttosto radi e questo è tipico dei vini giovani. Proviamo a prendere il terzo vino che è quello che ha fatto maggiore affinamento, è un vino da meditazione e facciamo la stessa cosa, roteiamo il vino nel bicchiere e vediamo che rotea con una viscosità maggiore rispetto al precedente. Le lacrime e gli archetti stanno scendendo con una lentezza incredibile e gli archetti sono molto molto fitti. E questo è tipico proprio di un vino che ha fatto grande affinamento. Nel link qui sotto potrai avere accesso direttamente al corso che ho preparato per te. A presto e buona degustazione! A presto e buona degustazione!